che dicevi denis a michele no niente dicevo bravo si l'abbiamo già sentito arianna arianna hai detto magari cosa hai detto magari arianna ho detto che non ha girato bene il suono che se denis ve lo fa vedere come si gira il suono hai capito stefano denis ha detto che non hai girato bene il suono stavo scherzando mi insegnerà lui magari visto che sei stavo scherzando dai già per scontato che sei dentro dicendo mi insegnerà lui no ma comunque è la stessa squadra rosemia cosa mi dici di stefano no l'ho già sentito l'avevo già sentito con questo pezzo agli 80 è sicuramente un ragazzo simpatico bravo io farò di tutto per non lasciarti questo posto ho lottato tanto per per averlo e farò di tutto per ma ok allora la vostra sfida è sicuramente il cavallo di battaglia sì e invece il pezzo in comune è amore bello lo sentiamo dalla regia amore bello come il cielo bello come il giorno bello come il mare amore ma non lo so dire l'amore è l'amore ok la scelte come vi sembrano? bello tutte e due? sì sì ok rosolino? è un bel pezzo sicuramente dovrò cercare di farlo bene ma sono fiducioso ok allora poi inizieremo subito la preparazione grazie Stefano in bocca al lupo a tutte e due grazie Creti ciao ok allora